va beh se è buona la prima vado in volo eh buona la prima circa ciao tutto bene Giosi, secondo te da che parte meglio a terra? guarda io sono entrato dal parcheggio verso sinistra Sì guarda ti piastavo anch'io Comunque tra la strada e le persone c'è un bel corridoio di un centinaio di mezzo di un metro forse più che puoi prendere tranquillamente te li vedo grazie ma che c'è e vediamo che da tuttropa Grazie a tutti Grazie a tutti I want a shield off Ok 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 Ok